Volevo cominciare molto bene, volevo cominciare con una bella sorpresa e ho deciso di invitare Igor Sibaldi. Ciao Igor! Ah, ti alzi? Ciao! Ti posso baciare? Certo! Sono contenta che tu inauguri questa iniziativa. Abbiamo fatto tante cose insieme, abbiamo fatto anche la RAI insieme, per quello, nel secolo scorso, a Napoli. È stata una trasmissione stupenda e sono molto felice che tu inauguri. Non abbiamo pubblico, però faremo un'altra puntata con il pubblico. Tu stasera ci parli, beh, Igor Sibaldi, che è scrittore, che è studioso, che è stato studioso delle scritture, che hai scritto tanti libri sugli angeli, fai corsi sugli angeli. Credo che uno dei tuoi libri più famosi sia I Maestri Invisibili. È il libro tanto richiesto, ancora oggi io ne sento parlare. Poi hai fatto Pinocchio? Hai fatto Pinocchio? A teatro no, a teatro Pinocchio no, era un DVD. A teatro c'era una cosa che si chiama Francesco e i Burattini. Sì. Poi Dioniso. Ho messo Pinocchio e i Burattini, non ho pagato. Poi Dioniso, poi Elogio dell'impossibile su Shakespeare, tante cose. Tante cose. Hai qui un libro, uno degli ultimi, anche se poi mi hai detto che ne hai scritto tanti altri, che risuscitare. Potrei citarne tanti. Ma stasera tu vuoi parlare? Del tempo. Perché il tempo? Vuoi tenerlo tu nel... Ma non il tempo, però fai le domande tue. Sì, non quello dell'orologio ovviamente. Il tempo dell'orologio? Non certo il tempo meteorologico, che in questa adorabile stagione autunnale meriterebbe una puntata anche quello, no? Il tempo in questo periodo. No, no, il tempo è quello là. Sì. Il tempo è quello dell'orologio. Il tempo è quello dell'orologio ed è il calendario. Quindi il tempo nel qui e ora, non nello spazio? Sì, esattamente, esattamente. Esattamente. Un fantasma che è entrato. Ne capitano qui, ne capitano... Sì, è una mia casa abitata. Il tempo. Perché noi siamo così bravi nello spazio. Siamo bravissimi sullo spazio. Molto, molto bravi sul peso, sulla misurazione dei liquidi. Però sul tempo siamo molto scarsi. Cosa vuol dire? Tant'è vero che nelle lingue indoeuropee non ci sono termini che descrivano il tempo. Sono tutti quanti presi a prestito da altre cose. Per esempio si dice, il tempo scorre. Come infine? Il liquido scorre. Il tempo passa. Dicendo il tempo passa, una persona si immagina che qualcosa sta fermo e qualcosa gli passa accanto. Il tempo passa. Oppure il tempo è un tempo lontano ed è una metafora dello spazio. Spazio e tempo non sono la stessa cosa. Quella è un'altra cosa. Però dire un tempo lontano, un tempo vicino, un tempo breve, un tempo lungo, sono tutte quante metafore prese nell'ambito dello spazio. E nel linguaggio nostro non c'è nessun modo di dire, nessuna espressione che colga il fenomeno tempo. Ma non solo. Una volta me l'ha cambiato di fare una conferenza con un astrofisico e questo mi ha spiegato una cosa da cui è venuto anche poi tutto il ragionamento. Che dice, pensi, non c'è a tutt'oggi nessuno strumento che misuri direttamente il tempo. Perché la clessidra, per esempio, misura dei grenelli di sabbia. E l'orologio misura i gradi di una circonferenza. L'orologio atomico misura degli impulsi elettrici. Questo vuol dire che il tempo non esiste? No. Che il tempo è una questione per noi ancora tutta in elaborazione. Anche se, mentre scrivo questo libro, mi è capitato di leggere un libro di un fisico importante, un fisico nucleare quantistico. Carlo Rovelli. Sì. Adelphi. Sì, ho letto. Mi ho scritto due molto divulgativi recentemente. Di cui si chiama, se non sbaglio, l'ordine del tempo. E il titolo corrisponde al contenuto, l'ordine del tempo. Perché a un certo punto nel libro si trova una frase che nessuno si aspetterebbe mai di vedere in un libro di uno scienziato. Ovvero sì, verso il finale dice, sul tempo non c'è nient'altro da sapere. Che detto da uno scienziato è assurdo, perché nessuno scienziato serio al mondo dice, su questo argomento non c'è nient'altro da sapere. Questo non è uno scienziato, questo è un religioso. Infatti è molto poetico in certe parti, è molto mistico. Sì, sì, sì. Chiacchiera un sacco, racconta un sacco di fanfalucche sul tempo, tenendosi aggrappato all'idea che il tempo deve essere come noi lo immaginiamo. Che questo non corrisponde né alla nostra esperienza diretta del tempo, né a quello che tanta parte della fisica sta scoprendo in questo periodo. E soprattutto quello che interessava a me non corrisponde a quello che nella letteratura che a me piace più di tutti, cioè quella circa 2000 anni fa, super giù, o anche poco prima, o anche molto prima, 3500 anni, 4000 anni fa, si sapeva del tempo, che è molto più intelligente di quello che sappiamo noi. Puoi dirmi, puoi dirci? Sì, sì, sì. Cosa stai, a cosa ti riferisci? Allora, per esempio, c'è una cosa che si chiama Ressurrezione. Sì. La Ressurrezione, e sono delle cose che si chiamano miracoli, sia la Ressurrezione sia i miracoli avvengono con un particolare utilizzo del tempo. Nella Ressurrezione, a un certo punto, si vede che una persona che è sparita, morta, Morta, non sparita. Sparita come persona che si muove, così. Il famoso Gesù, il parente, muore, è un cadavere, e dopo qualche tempo, non tanto, ritorna fuori dal passato. È una distensione importante perché, innanzitutto, crea un grosso dubbio sulla idea che dell'aldilà avevano i primi cristiani. Cioè, i primi cristiani, a differenza dei secondi cristiani, evidentemente non credevano nella sopravvivenza ultraterrena. Perché, se... I primi cristiani, intanto, erano ebrei? Non si sa. Sicuramente sì. In gran parte sì. In gran parte sì. Però, il Vangelo, come noi lo conosciamo, è un'opera ellenistica, è un'opera greca. Scritta sicuramente in greco. Quindi, non i primi cristiani dei tempi del Cristo, i primi cristiani dei primi secoli, tu dici? Lì è un territorio di bluff. Perché, quando noi diciamo i primi cristiani del tempo del Cristo, stiamo bluffando. Perché, in realtà, i primi cristiani del tempo del Cristo non sappiamo niente. Però erano ebrei, non esisteva il cristianesimo. L'origine sì, l'origine ebraica. No, Esseni no. L'origine ebraica, però, il cristianesimo importante si è sviluppato in greco? Sì. E poi era un periodo, quello, tra l'altro, in cui, specialmente per i cristiani, essere ebrei non era tanto importante. Perché era un periodo che si chiama ellenismo, in cui c'era una tale contaminazione culturale, così bella, così produttiva. Per cui, per esempio, non so, a Gerusalemme si parlava in greco. I Vangeli sono strapieni di citazioni di Aristotele e di Platone. Gesù sembra un dotto greco che sta parlando di uno sviluppo della filosofia greca in un ambiente ostile, che è quello della piccola provincia giudaica. È un periodo, quello, un bellissimo periodo, di grandissima confusione di culture. E il Vangelo viene fuori da lì. Il Vangelo viene fuori, tra l'altro, molto tempo dopo Gesù, molto tempo dopo, cent'anni dopo circa. E pone delle questioni che, niente, che affondano le radici, da un lato nella filosofia greca e dall'altro nell'antico Egitto. Matteo, per esempio, molto onestamente, dice che l'angelo dice a Giuseppe di andare in Egitto, perché il bambino deve crescere in Egitto. Quindi, là c'è l'iniziazione? Non c'è l'iniziazione, tenendo conto, sì, se vogliamo fare i romanzeschi, sì, però tenendo conto che i Vangeli sono un po' la storia di Gesù, è un po' la storia del primissimo cristianesimo, dire che è cresciuto in Egitto, vuol dire che in qualche modo è in Egitto che ci sono alcune delle radici fondamentali. altre sono in India, che a quel tempo era vicinissima all'India, vicinissima. Gesù non potevano conoscere Shiva, per esempio, perché c'era un porto fondamentale, Akkava, in cui arrivavano sete, colori, vino. Il vino è una scoperta indiana diffusa dappertutto. Infatti, interrompo. Allora, adesso stanno uscendo i libri di Givaudan, di Maurice, di Daniel Meruat, Givaudan. Lui ha fatto, ne ha scritto i tanti dei libri su Gesù, ne è uscito un primo volume, in prima persona, in cui lui parla come se fosse Gesù, adesso sta uscendo. E lui fa andare Gesù, appunto, in Oriente a incontrare i grandi maestri dell'Iente. Cosa ne pensi? Non c'era bisogno, non c'era nessun bisogno, perché non era affatto necessario andare in India per sapere qualcosa di India nel primo secolo, perché l'India era in strettissimi rapporti con l'Egitto. L'India, il Tibet... Non c'era bisogno. C'era una corrente culturale che datava da molto tempo prima, da 2000 anni prima, cioè Dioniso, che è nato anche lui il 24 dicembre, tra parentesi, che è morto e risorto anche lui, tra i suoi grandi viaggi che fa nel mito era in India. Alessandro Magno va in India. Altri puntavano all'India, ma era un modo simbolico per dire questo, perché l'India era in contatto con l'Egitto strettissimo, c'era una grande familiarità con l'India. E Dioniso, dire che è andato in India a piedi, che poi non ha detto che è andato a piedi, dire che è andato in India vuol dire, è una specie di celebrazione di questa cosa. Quindi ha preso contatto con la cultura indiana. Sì, poi un'altra linea importante era la Persia, attraverso cui l'India arrivava. Arrivava l'India, non bisognava andare là. Sicuramente c'è l'influsso indiano sia in Gesù, sia anche nei libri della Bibbia precedenti. Però arrivava attraverso il Mar Rosso, qui non c'era bisogno di andarci. Bastava che andasse... Superasse un po' un viaggio facile abbastanza da Israele a Aqaba e lì era già in ambiente. Poi soprattutto c'era il Libano. Il Libano era questo centro di smistamento di culture e di merci attraverso cui l'India arrivava in Europa. Per cui parlavi delle Ressurrezioni, del Tempo. Infatti, diciamo, se i primissimi cristiani, questi lenisti un po' ebrei, un po' greci, non romani, questi lenisti credevano nella vita oltre la morte, dopo la morte, non oltre, dopo la morte, non c'era nessun bisogno della Ressurrezione. Perché la vita continuava. Perché se volevano rivedere Gesù, che sicuramente dopo la morte si sarà piazzato benissimo, essendo, perché tutto parente del Dio, e poi essendosi comportato così... Parenti del Dio. Certo. Essendosi comportato così bene, bastava farlo... bastava che apparisse, come appare la mamma. Certo. Puntualmente, ogni tanto la mamma appare. Sì, in qualche parte del mondo. Come appare padre Pio, come appare... Ecco, questa qui è la fede nella vita dopo la morte, come se il tempo non si fermasse con la morte, ma continuasse dopo, con lo stesso ritmo che ha qui. Per cui dopo la morte non è morto a sei anni, da dieci anni, da cent'anni e riappare. Per fare una ressurrezione, cioè perché una persona tornasse come era prima di morire, vuol dire che evidentemente i primi cristiani nella vita o dopo la morte non ci credevano per niente. Tanto più che anche Gesù, nei sinottici, dice appunto quel verso terribile, Dio non è il Dio dei morti, ma è il Dio dei vivi. che è una frase che è difficile incamerare nella nostra religione. Perché nella nostra religione, intendo la religione di questo continente, Dio è una specie di Plutone, che è un Dio dei morti, con un grandissimo, popolattissimo inferno, un paradiso meno popolato e un purgatorio molto popolattissimo, pieno di morti. Ma è anche qui l'inferno, il purgatorio è per la vita. Però l'idea che ci sia questo Dio che vive circondato da morti nei Vangeli non c'è. Non c'è. Ecco, perché non c'è? Perché avevano a quel tempo una corrente di pensiero, bella, che poi si è esaurita, momentaneamente esaurita, come uno di quei fiumi del deserto che scendono per un po' e poi ricompaiono più avanti. E spero che ricompaia adesso, faccio il possibile perché ricompaia. E avevano a quel tempo un'idea del tempo che noi abbiamo perso. E che, tra l'altro, per vie traverse non dirette, è ricomparsa un pochino nella psicologia della fine dell'Ottocento e tanto nella fisica del dopoguerra. Nella fisica del dopoguerra, tutti quelli che hanno visto Ritorno al futuro, da dove viene Ritorno al futuro? Ritorno al futuro, il film, viene dalle ipotesi fisiche, soprattutto di Everett, di Hugh. Di Tesla? No, c'era ancora. No, dopo. Hugh Everett, negli anni 60-70, Hugh Everett è quello che comincia a aprire in modo molto addirittura aggressivo l'idea del varco spazio-temporale, già scoperta al tempo della Prima Guerra Mondiale, già trattata da Einstein, ma rimasta momentaneamente di lato. Everett dice, altro che varco temporale, ci sono i mondi paralleli, ma ne parla però da fisico, non da scrittore di fantascienza, ci sono i mondi paralleli che hanno tempi diversi dal nostro e che fanno pensare al nostro tempo, come noi lo intendiamo, il tempo per il quale adesso sono le 9 e 18 e io ho 61 anni, ecco, questo tempo qui come una riduzione a suo modo umiliante della vastità del fenomeno temporale, che non ha una sola direzione come noi pensiamo, solo in avanti, ma ne ha tante, è circolare, va avanti, è laterale, va indietro, si muove in diagonale, ha diversi tempi paralleli, questo si trova negli antichi egizi, nei Vangeli, nella fisica quantistica di terza generazione. Cioè l'elettrone che dal futuro viene nel passato. Quello era il problema grosso, che ha diviso poi la fisica nelle varie interpretazioni. E Hugh Everett, per esempio, dice, questo grande fisico, dice, le nostre scelte, per fare un esempio delle sue teorie, ogni volta che noi compiamo una scelta, lasciare una persona o non lasciare una persona, per esempio, e scegliamo di lasciare questa persona, noi prendiamo una direzione in cui noi lasciamo questa persona, ma nel frattempo la scelta non l'abbiamo fatta, in quel senso, la facciamo in un altro senso, per cui noi lasciamo questa persona e nel frattempo non la lasciamo. Cosa vuol dire? Che ogni scelta biforca, la famosa biforcazione, biforca il tempo e si forma un mondo parallelo. In cui noi, più ogni scelta, figurati quanti, cioè sono tantissimi, è un albero, è un albero della giungla. Io faccio una scelta, creo un futuro, è la scelta non... Due futuri, c'è la scelta che io creo e la scelta invece che non ho fatto, ma che nel frattempo ho anche fatto. Questo è Hugh Everett. Tutti questi ragionamenti sono prodotti da calcoli, naturalmente, non sono ragionamenti che mi è venuto in mente, ora sparo questa cosa. No, no, sono leggi fisiche esplorate da questo Everett. Mondi paralleli. Poi c'è l'idea del viaggio nel tempo aritroso che c'è nella fisica, è molto importante, trattatissimo negli anni Ottanta. Tutte queste cose avvengono nella fisica, sono avvenute nei Vangeli, sono avvenuti in Egitto e manca il ponte tra fisica, Vangeli ed Egitto che sarebbe una grandissima, bellissima scoperta. Cioè il fatto di accorgersi, perché è stata di un accorgersi innanzitutto, che il tempo non ha una sola direzione. Cioè che non è vero che del tempo non c'è più niente da sapere, è che ne sappiamo pochissimo per adesso. E gli antichi ne sapevano molto, molto più di noi. Per esempio, nei Vangeli Gnostici, che sono interessanti, che sono tutti quanti, sono in gran parte, sono il sequel dei Vangeli Canonici. I Vangeli Canonici finiscono con la Ressurrezione. E secondo Luca, Matteo e Marco, Gesù risorto va in cielo e sparisce. Solo secondo questi tre. Secondo Giovanni non sparisce, rimane qua. E' la differenza agghiacciante tra questi Vangeli. Cioè, in Marco sicuramente il finale è aggiunto. E Gesù si eleva tipo astronave. In Matteo la cosa è liquidata in fretta. Da un lato se ne va e dall'altro dice, io sarò sempre con voi fino alla fine del mondo. E' molto ambiguo ed è trattato male il finale di Matteo. Cioè si vede che è un altro autore, non limpido come Matteo. Il finale sicuramente. Il finale di Matteo sicuramente. Perché si vede che non è una prosa limpida come quella di Matteo. Poi da un lato se ne va e dall'altro rimane. Luca, Luca sale, Luca va via. Negli Atti di Apostoli. A me la Ressurrezione in questo modo sembra una balzelletta. Perché uno va in cielo, rimane così nel cielo col corpo per l'eternità nello spazio. Che non vuol dire in assolutamente niente. No, qualcosa vuol dire sul piano mistico, molto molto mistico. Però talmente mistico da essere fumoso. Invece in Giovanni Gesù non si muove dalla terra, Gesù risorto. I Vangeli Gnostici sono quello che ha fatto Gesù risorto. Cioè di cosa parlava, cosa raccontava, cosa spiegava in più. Lo spiegava in più. E soprattutto in alcuni, per esempio il Vangelo della Maddalena, come ricontattarlo. Cioè come trasformare la Ressurrezione in una tecnica di contatto con Gesù risorto, inesauribile e riproducibile quando si vuole. Il Vangelo di Maria Maddalena. Che ha una storia particolarissima per il Vangelo lì. Una storia particolarissima perché è stato uno dei Vangeli più famosi nei primi tre secoli. Diffuso in tutta Europa. Poi purtroppo nel 391, c'è stato l'accordo dell'anno 391, è stato l'accordo rovinoso tra la Chiesa e lo Stato romano. Che sì, da un lato ha prodotto, ha facilitato le sorti della Chiesa. D'altro lato però ha messo in mano alla Chiesa di Roma uno strumento poliziesco per perseguitare tutti gli eterodossi, tutti gli eretici. E si sono accaniti in particolare, a quanto pare, contro questo Vangelo di Maria Maddalena, che dall'Europa è scomparso. Non è stata più trovata scritta in greco, non è stata più trovata una coppia in tutta Europa. Per fortuna c'era a quel tempo un territorio verso la metà del corso del Nilo, vicino all'isola di Elefantina, Nagammadi e dintorni, 100 km dintorno a Nagammadi, in cui c'erano i famosi padri del deserto. Copti, cioè egiziani, che facevano tradurre tutto da bravi, o si traducevano loro, tutte le novità che venivano fuori nei primi tre secoli le traducevano in copto. E siccome erano fuori mano, Roma non ci arrivava lì. Quanto Roma è cominciata ad arrivare lì e hanno cominciato a perseguitare tutti i possessori di testi erettici, qualcuno ha avuto la bella idea di nasconderli, questi testi erettici, che essendo di pergamena, di papiro, di pergamena, si conservavano benissimo. Ne hanno nascosti nelle grotte, nelle tombe e intorno... A Qumran? A Qumran? No, a Qumran no, a Qumran è nascosti proprio vicino al fortino. No, lì c'erano delle grotte... No, ho detto Qumran, nello stesso modo c'è una grotta... Nelle grotte, messe in otri, nascoste in grotte, murate le grotte, tanto pensavano, come noi pensiamo che prima o poi internet passa, anche loro pensavano che prima o poi questi cattolici passeranno, quindi quando saranno passati li ritiriamo fuori. No, li ritiriamo fuori. Invece non è successo. e lei ha scoperti il Vangelo di Maria Maddalena è fine dell'Ottocento, 1800... Cioè, fino al 1800 non è stato mai un scoperto. E non c'era nessuno lì che cercava. Poi sono gli archeologi, 1896, archeologi tedeschi, tra Egitto e Sudan. Sono arrivati e hanno trovato in una tomba del V secolo, cioè 400 circa, c'era la tomba, e c'era una pietra che si muoveva, hanno tolto la pietra, dietro la pietra c'era una nicchia tutta piena di piume di oca. Bella, eh? Immagina, c'era il piume di oca, che non si consumano. E nelle piume di oca, avvolto lì perché stesse caldino, c'era un codice, codice cosa vuol dire? Una serie di fogli cuciti legati tra due pezzi di legno. Ed è la Vangelo di Maria Maddalena. I tedeschi l'hanno preso, l'hanno presentato a Berlino, e poi è rimasto lì, dimenticato. Nel 1946, a poca distanza da lì, da quel luogo, da quel ritrovamento, c'è stata la storia famosa di Nag Hammadi. Cioè, due pastori islamici vanno a fare pipì in una grotta e trovano un oltre, un altro oltre. Dentro l'otre, 40 testi. Allora li portano a casa e cominciano a smerciarli. Gira a voce che hanno trovato testi importanti, arrivano tutta una serie di illuminati archeologi del tempo, di esperti, arriva anche la fondazione Jung, che ne compra un po', diventa un caso internazionale, l'Egitto se ne appropria e comincia a farli pubblicare. Dagli anni 50 sono usciti negli anni 70, questi qua. Hanno fatto un grandissimo scalpore, perché erano testi della stessa antichità dei Vangeli, alcuni, bellissimi, il Vangelo di Tommaso di una bellezza straordinaria. E probabilmente il Vangelo di Tommaso è precedente ai Vangeli, precedente ai Vangeli, perché non ha trama, ma non ha trama, sono solo abbozzi per un futuro Vangelo. Bellissimo, da una profondità straordinaria. Un grande scalpore, specialmente nei paesi anglosassoni, in Italia meno, in Italia Moraldi era bravo, sì, avevo letto il libro su tempo. Moraldi era bravo, le fanno pubblicate in Italia. E niente, allora i tedeschi hanno tirato fuori questo Vangelo di Maddalena. Il Vangelo di Maddalena che era interessantissimo, perché erano di quei Vangeli che raccontano solo del risorto. che compare, che spiega e che dice come ricontattarlo. Da lì si vede come si ricontatta. Dunque, scusa, è molto interessante. Abbiamo delle domande? Sì, c'è qualcosa già. Ma interessanti? Io direi che aspettare ancora un po'. Ok. Tutte interessanti, ma aspettiamo ancora un po'. di 101 desideri, tutte le cose elementari. Noi faremo con Igor Sibaldi un'altra puntata, magari in febbraio, in marzo. Volentieri. E affronteremo altre tematiche. Ma stasera rimaniamo su questo tema. Sul tempo. Ma come si ricontatta? stavate dicendo. Dunque, come si ricontatta? La grande scopritrice, la prima che fonda proprio tutto, a quanto pare, perché non c'è niente prima di lei, è Iside. Chi è Iside? Una dea. Cos'è una dea? è un'espressione di una corrente religiosa. Noi non sappiamo niente di questa corrente religiosa. Anni 4500 a.C. Allora, Iside ha questo, è un fenomeno anche psicologico e religioso straordinario. La storia di Iside è molto più avanti della nostra religione. Adesso ve ne racconto un pochino e vedrete voi stessi. Allora, la Iside è la moglie di Osiride. Osiride è un dio, Iside è una dea. Osiride viene ucciso dal fratello Cet. Smembrato. Viene prima negato, poi lei lo ritrova e Cet sa che l'ha ritrovato, allora lo spezza tutto quanto in pezzi e lo sparge dappertutto. l'Egitto. Lei pazientemente ritrova tutti i pezzi di ricucce. Dramma di morte. Dramma di morte che a quel tempo deve aver prodotto uno scandalo tremendo religioso. Perché gli egiziani avevano esattamente la stessa struttura del dopo morte che abbiamo noi. Cioè, si muore, si va davanti a un tribunale, si vede il giudizio e si procede oltre. Io lo cito perché lo trovo stupendo. Tu metti il cuore che deve essere leggero come una piume. E credevano in queste cose. E la storia di Iside cancella, fa crollare tutto questo. perché la Iside scopre che Osiride dopo morto non c'è più da nessuna parte. Non era possibile evidentemente dal punto di vista psicologico dire allora che un morto umano non c'è più da nessuna parte. Era ancora troppo presto per noi addirittura impensabile dal punto di vista religioso. Perché tutte le nostre religioni tutte quante, tutte proibiscono ai loro fedeli di pensare che dopo la morte non ci sia niente. È proibito. La Iside invece dice con straordinario coraggio dice no no io vi garantisco che Osiride è morto e dopo la morte non c'è niente. Perché io ho guardato io sono una dea posso andare a vedere dappertutto e non c'è più. E non c'è più. Quindi il mio dolore non c'è un al di là non c'è un al di là. Non c'è Iside non c'è solo Osiride. Non c'è un al di là. Per gli dei non c'è un al di là e questo apre la prospettiva che non ci sia neanche per gli uomini. Apre apre una prospettiva che poi le altre regioni hanno richiuso subito. Dice non fa troppa paura questa. Fa terrore. E lei dice sì fa terrore ma è così. Dice Iside. Quindi il mio dolore è senza fine. Io non voglio sottomettermi alle leggi del dolore. Legge del dolore cosa impongono? Che all'inizio il dolore è molto forte per qualche mese mi sembra di impazzire poi dopo un po' diminuisce ti rassegni aspetti ricominci ad avere appetito dopo un annetto canti ancora dopo un paio d'anni ci pensi con malinconia non è più dolore malinconia perché il dolore ti ha sconfitto e tu subisci la sconfitta e la elabori. Mi sembra sentire la punga rossa. Infatti e lei dice io a me questa roba qui non mi va io sono una dea e perché se una persona mi offende io devo sopportare l'offesa se qualcosa mi fa del male se io tocco un oggetto incandescente devo continuare a toccarlo fino a che i miei nervi non si atrofizzano e si ribella. Per noi questa storia è di una novità assoluta perché da noi non c'è traccia vai indietro per secoli e secoli non c'è niente che somiglia a Iside la ribellione al dolore la non rassegnazione con tra l'altro l'assassino di Iside che sta facendo carriera per cui ha potere nel cosmo egiziano e lei dice io a me non me ne frega niente che lui ha potere io non mi rassegno a questa cosa non ho rassegnazione meravigliosa e lei comincia ad esplorare non tanto le leggi della morte quanto più in generale le leggi del passato cioè lei comincia a pensare ma chi ha detto che presente e passato sono staccati chi ha detto che una persona non può ritornare indietro nel tempo tutto documentato nei varini di Iside chi ha detto che e lei comincia a scoprire questa parte della psiche perché è così così per chiamarla che è extratemporale cioè io posso tornare indietro nel tempo attraverso strumenti in apparenza molto umili che sono il ricordo e il desiderio allora il ricordo è quello che tutti abbiamo qualcosa che abbiamo perso è il passato è pieno di tutto quello che abbiamo perso noi con il ricordo possiamo in qualche modo immaginarlo di nuovo e pensiamo che il ricordo però conta meno della sensazione la Iside dice non è vero chi dice che il ricordo conta meno e qui qualsiasi psicologo onesto di oggi le darebbe ragione perché che cosa si è ricordo noi non lo sappiamo cioè secondo un'interpretazione ottocentesca il ricordo è un archivio sì ma dov'è questo archivio chi è che ha dimostrato che il ricordo è un archivio in neurologia non c'è chi è che ha dimostrato che un ricordo è un archivio e non magari un sensore un'altra dimensione no un sensore come c'è per esempio il sensore del tatto il sensore dell'olfatto il sensore della vista un sensore che ti riporta a 10 20 30 40 anni fa e ti fa sentire quello che c'era allora chi è che può dimostrare che non lo sia nessuno perché l'interpretazione dell'archivio è bella è prussiana è austriaca che bello l'impiegato dell'archivio immaginare la memoria che tu vai in un ufficio e chiedi mi fa per vedere il fascicolo del 72 del 72 guardi pure i controlli in una biblioteca ma è talmente elementare è talmente grottesco perché non un sensore che a un certo punto ti riporta indietro e l'inside pensa così secondo me il ricordo è un sensore secondo me dice voi svalutate il ricordo io so che più ricordo Osiride meno soffro e quindi questo siccome il dolore è la mancanza se io ricordo il dolore diminuisce io non sono disposta a riconoscere subito che sia un'illusione voglio prima scoprirlo che cos'è e comincio ad andare indietro poi fa un un'operazione geniale che è unire al ricordo il desiderio il desiderio per noi è tutto il futuro io desiderio qualcosa che non ho ancora non ho ancora lei dice io desidero qualcosa che non ho più e mette insieme il ricordo e il desiderio e ottiene come nelle bombe che sono due elementi che producono due elementi chimici che producono un'esplosione la spolletta fa rompere i due contenitori e esplodono lei ha questa questa molecola diciamo che riesce a creare ricordo più desiderio e tutto un tratto c'è questa terribile avventura non lo riporta in vita lei riesce col ricordo ad arrivare a un certo punto in cui lui è ancora vivo col desiderio lei riesce a chiamare Osiride vivo perché Osiride ancora vivo esca dal tempo e lo incontri nel fuori tempo ecco questa roba qui è nei testi la realtà virtuale secondo la Iside no perché lei lo incontra lei lo incontra fanno l'amore e rimane incinta dopodiché lei partorisce non fuori dal tempo ma partorisce nel suo tempo ecco interessante una cosa prima dei Vangeli interessante una cosa intorno alla fine del più o meno quando stavano scoprendo gli archeologi tedeschi per conto loro lavorando tra la polvere stavano scoprendo l'angelo della mandalena in Francia c'era uno psicologo molto simpatico molto molto simpatico Pierre Jeannet che è quello che ha inventato la parola subconscio compagno di scuola di Freud per intenderci a Parigi il quale aveva anche una serie di talenti filosofici non indifferenti oggi è in gran parte dimenticato che è una teoria del tempo bellissima la più semplice teoria del tempo che aveva visto è la più audace perché dice cos'è il tempo allora la formula del tempo la chiamiamo così A è B A è il passato B è il presente dove c'è B non c'è A dove c'è B non c'è sì è il presente e quindi A c'è una freccetta che porta a B la forma del tempo è A freccetta B passato successione presente e dove c'è B non c'è A così noi riteniamo dice lui e questo è sbagliato perché dal punto di vista fenomenologico dal punto di vista diciamo meglio oggettivo noi non abbiamo l'idea di successione è un'idea astratta non abbiamo mai visto abbiamo mai sperimentato che la freccetta esista siamo sempre nel presente no no lui dice non hai capito lui dice la nostra mente si è rimpicciolita a un certo punto e riesce a vedere solamente una B e poi si sposta e vede una A e non riesce a vedere A e B insieme ma non perché la nostra mente non ne sia capace perché è stata artificiosamente rimpicciolita da gravi traumi politici per sopportare la difficoltà degli imperi in cui uno sconosciuto di solito vizioso governa la tua vita e ti umilia come si fa? si rimpicciolisce la mente per sopportare qualcosa che ti dà fastidio senti meno con la mente piccola essendo la mente piccola una condizione di sopravvivenza perché se no morivi se ti opponevi morivi la mente l'orizzonte della mente si è chiuso e non riusciamo solo a vedere la B solo al presente ma tu se riesci ad astrarti da questo processo storico e dici guarda che dentro la tua vita dentro la tua mente A e B sono pari sono pari coesistono coesistono sei tu che sei stato addestrato a mettere la freccetta la freccetta non c'è il futuro è un'altra freccetta che va alla C ma coesiste come il passato certo A B C coesistono si tratta solo di ampliare la mente è una formula meravigliosa e coincide perfettamente con quella di Iside perché Iside dice chi ha detto che il passato è passato fu alcuno ma non io io basta che allargo la mia mente e con i miei sentimenti ci riesco con i sentimenti di ricordo con i sentimenti del desiderio ci riesco io allargo la mia mente e mi accorgo che il passato non è affatto passato applicato alla nostra vita mi accorgo che ho ancora 16 anni come ne ho 61 come ne ho 5 come ne ho 32 li ho tutti quanti insieme il mondo apparentemente non me lo permette perché non me lo permette per un uso linguistico perché è stato creato questa cosa questa aberrazione secondo Jeannet che si chiama presente il presente dice Jeannet è un crimine perché crei sto presente gli animali non ce l'hanno e stanno benissimo gli animali hanno un non tempo e infatti anche i bambini e infatti non so sono tante storie io ne ho visto almeno un paio di gatti che si vengono portati lontani da un posto e ritrovano la strada tranquillamente come fanno a ritrovarla non hanno una mappa come fai in una città un gatto a ritrovare a distanza di 10 km la casa da cui è arrivato tu dici torna nel passato? no no conosce va avanti e dice io cosa saprò quando lo saprò questo naturalmente qui cominciano se noi cominciamo a slacciare tutti i lacci che ci legano all'idea di presente piccolo cominciano le cose straordinarie cioè cominciano l'idea del fatto che che l'Evangelice del fatto che tu adesso sei già tra 10 anni e ti stai istruendo su come comportarti al meglio per non fare una serie di errori per fare una serie di cose giuste nei prossimi 10 anni e il tuo tu attuale non quello di 10 anni quello attuale deve scegliere se dar retta a te che sei tra 10 anni o a quelli che gli parlano intorno questo è un passo del Vangelo bellissimo Giovanni una volta tu hai detto che la causa il processo di causa effetto non è che io adesso faccio una cosa quindi mi succede un'altra ma è rovesciata sì quando non capivo ancora queste cose mi affascinavano già questo qui l'aveva detto una sagora una sagora dice la vera causa di qualche la stessa la stessa area stessa area perché andavano in Egitto a studiare questi per cui sapevano tornavano per esempio non so Socrate che parla della caverna Platone che parla del mito di Erd della risurrezione eccetera sono tutti quanti i tentativi di portare questa idea del tempo egiziana anche in Grecia che sono riusciti a quel tempo e poi sono dimenticati ma sono bellissimi perché naturalmente uno basta che ci pensa un attimo e coglie subito le implicazioni le implicazioni cosa sono? dunque se tu sei ancora quello che eri prima di diventare vice direttore di banca non lavori più in banca certo che no se tu sei ancora quella dei tempi del primo amore il marito lo pianti fatto grazie se tu sei una persona che è stata sconfitta per una serie di situazioni storiche eccetera tu sei ancora quello che non è stato sconfitto e questo fa saltare tutta una serie di ordini come la scoperta di Iside fece saltare il dominio di Seth che dovete andare via perché lei non solo riesce a fare questa cosa cioè ricontattare Osiride e a portarlo fuori però lei spiega agli altri dei come si fa per cui tutto il tribunale celeste tutto l'insieme e tutto il foro celeste impara a ricontattare Osiride e Osiride ritorna attivo però quello che tu hai detto è un po' quello che ha detto Gesù se non ritornerete come bambini esattamente quindi tu vai a riprendere la tua essenza esattamente ritrovi la tua essenza e fai delle scelte non più convenzionali che ti vengono date dall'esterno influenzate dall'esterno se scegli la tua essenza fai delle scelte diverse Gesù è un teorico ma è estremamente conseguente su questa roba perché ha due punti chiave tre punti chiave importanti noi si vede che è proprio cresciuto in Egitto questo uomo primo punto dovete ritornare come bambini insistito tantissimo nei Vangeli Gnostici come si intende adesso questo il normale prete di parrocchia ti spiega devi essere obbediente gentile caro e spaventato senza soldi in tasca e sottomesso ai genitori no? no e invece gli dici no 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 bambino nel senso erenistico del termine cioè individuo che è ancora al riparo dai traumi che subirà da adulto cioè dovete tornare ad essere quelli che eravate prima di subire i traumi che avete subito da grandi poi il bambino è ancora connesso con l'altra dimensione e non è ritornare il bambino in uno senso comportamentale no no ritorni il bambino perché ti accorgi che tu sei ancora quello di quattro anni o di tre non abbiamo niente di importante sì ti interrompo un attimo sì perché la diretta tra l'altro nel frattempo vi comunico che siamo undicesimi in classifica sui live mondiali come intendenza quindi complimenti allora abbiamo già due o tre domande te ne le allora scusa scusa ridami un attimo no facciamo finire il discorso perché stava dicendo che Gesù ha detto tre cose fondamentali no ma così non lo spezziamo uno è se non riternerete come bambini l'altra è dovete nascere di nuovo sì uguale ovvero sia questo qui poi l'ha detto anche Otto Rank però senza sapere l'ha detto Gesù Gesù dice si torna indietro e come l'ho imparato da Iside si torna indietro si torna a prima di qualsiasi trauma per poter capirsi bene sia per capirsi tra di noi sia per capire se stessi devi tornare a com'era a com'eri prima di tutti i guai che ti sono capitati durante il parto e non è che devi e purtroppo non puoi no io ti spiego come si fa e la terza cosa proprio flagrante che ha fatto cioè scena di tumulto in un paesino della Giudea Gesù che a un certo punto dice ma io con Abramo ci ho parlato ed era d'accordo con me Abramo Abramo ha vissuto tre mila anni prima di Gesù e questi gli dicono ma cosa dici ma cosa dici ma come fai tu che non hai ancora cinquant'anni ad aver visto Abramo Gesù dice non solo io l'ho visto ma da prima che Abramo fosse io sono no io sono io sono cioè non ho il tempo io non ho il tuo tempo nel tuo tempo Abramo è morto il mio no in questo senso in Dio sono tutti vivi ma non perché sono vivi dopo essere stati cadaveri assolutamente no perché il passato non è affatto passato come lo teniamo noi tu puoi in qualche modo se lo applichi poi ci riesci anche tu puoi in qualche modo arrivare a un punto in cui ti accorgi che il passato è come un film che si ripete in continuazione e tu puoi entrare in qualsiasi momento in questo film puoi entrare il film non si può cambiare ecco la domanda era si può cambiare il film no non si può cambiare però tu puoi non in questa dimensione no no non puoi cambiare quello che è avvenuto è avvenuto però tu puoi prendere un protagonista del film e dire vieni fuori dal film vieni fuori puoi prendere un altro puoi prendere te stesso puoi tornare indietro e dire tu sei ancora bambino ecco tu vieni fuori e aiutami adesso se lui riesce se riesce a spiegargli questa teoria la iside riesce per esempio quando io faccio la disidentificazione di assaggioli dico guardati come eri bambino agisci su di lui aiuta quel bambino che è ancora dentro di te ecco questo qui è un è un è pericoloso perché questo l'ha spiegato bene in un russo che si chiama Novikov allora si chiama principio di autoconsistenza Novikov fa un paradosso dice famosissimo se io voglio uccidermi ma non voglio subire nessuna sensazione sgradevole come faccio? mi armo di una pistola vado indietro nel tempo trovo mia nonna che mi è sempre stata antipatica trovo mia nonna prima prima che si sposasse ragazzina la vedo e le sparo nel momento in cui sparo a mia nonna io scompaio e non nasco più non scompaio non sono mai nato non sono mai nato appunto perché la uccido non sono mai nato e Novikov dimostra con i suoi calcoli con tutto oltre alla logica dice però se tu non fossi mai nato non sei mai tornato indietro quindi l'idea di Novikov paradossale è io sparo alla nonna ma la manco e mi arrestano e ho il guaio che la nonna mi è e rimango bloccato nel tempo a un certo punto arrestato per tentato omicidio quando la nonna negli anni 30 di mia nonna questo è un principio di autoconsistenza interessante c'è un autoconsistenza che non è cioè il passato non può essere cambiato ma il passato non è l'unico passato cioè tu puoi costruire accanto al passato un altro passato o meglio diciamo così diciamo meglio tu puoi dare a qualsiasi momento del tuo passato un futuro diverso senza che il momento perda il futuro che hai avuto cioè quel futuro per esempio tu arrivi alla all'interrogazione che ha cambiato la tua vita tra in matematica davanti a tutti deriso ti è costato la bocciatura a settembre durante la quale per depressione ti sei rotto una gamba sei diventato omosessuale sei stato molto triste poi sei drogato tutto il resto no? beh perché la delusione è profonda di allora mentre prima non lo eri allora questo qui è avvenuto poi ti sei disintossicato hai trovato il grande amore io torno a prima di quell'interrogazione torno a prima e formo un altro futuro rispetto a quello per cui senza negare il futuro che ho avuto io ne ho un altro in cui l'interrogazione non è fatta bene allora noi siamo o in cui non mi importa dell'interrogazione è passata un'ora dobbiamo avere ancora un pochino di futuro eh sì voglio finire questa tradizione senza bloccarla a un'ora con il colpo di scena qual è allora diciamo dei miracoli che avvengono col tempo voglio sentire il pubblico che cosa posso dire una cosa di là questa cosa che abbiamo detto di portare fuori uno così c'è nel secondo capitolo di Marco quando arriva il paralitico e Gesù dice adesso ti tolgo i tuoi traumi che ti hanno causato la tua malattia no primi peccati la stessa cosa stessa cosa ok loro chiamavano peccati traumi ok per loro i peccati i traumi o peccato quindi ti tolgo i traumi ti tolgo i traumi che ti siano rimessi i tuoi traumi che siano risolti i tuoi traumi non risolti che siano allontanati da te rimessi ovvero sia tu torni a come eri prima dei traumi e adesso tu cammini ma non cammini perché sei guarito cammini perché sei un paralitico che cammina e infatti non dice alzati vai a casa dice no dice alzati prendi il tuo lettuccio portatelo in giro e vai a casa perché da quel lettuccio non ti stacchi più però a differenza di prima che eri uno immobile sul lettuccio adesso lo porti in giro questa è un'immagine ultra paradossale di un ampliamento psichico tremendo che significa c'è una psicanalisi questa poi tu sei uno che ha dei guai e non puoi toglierti questi guai nel frattempo tu quei guai non li hai più nel frattempo perché tu non sei solo tu tu non sei solo il prodotto del tuo passato tu sei il prodotto in quanto possessore di quei guai sei il prodotto di un tuo passato ma io faccio in modo che tu abbia due passati tre passati quattro passati cinque passati uno senza traumi per esempio uno senza traumi un altro con grandissime vittorie e tutti quanti coesistono senza annullarsi che è un'idea che nella nostra mente adesso 2018 non è concepibile però se ci lavoriamo un po' 2019 infatti quelli io non sono una grande studia non ho tempo esattamente quelli ma la sensazione che quello che hanno detto i greci gli antichi greci sia quello che stanno scoprendo i fisici della fisica quantistica l'hanno detto esattamente l'ha detto in filosofia non tutto però per esempio per esempio quella storia dell'elettrone che se riesce a fissarlo c'è il collasso della funzione d'onda è la storia di Orfeo tu puoi portare fuori Euridice ma non devi voltarti non devi voltarti se la porti fuori lei viene fuori ma se vuoi fissarla in un punto la perdi questo sembra sembra il principio di indeterminazione solo che del novecento a.C. bellissimo molto bello ma non perché ma non perché ma non perché sia una coincidenza è perché per questo motivo per cui sia Verrazzano sia Vespucci sia Cabotto fanno la stessa carta dell'America non è che se la sono inventati tutti in un stesso modo no è così quindi l'hanno cartografata giusta certo quindi che sia Orfeo che sia Heisenberg che sia Iside stanno cartografando un territorio che noi la verità è una per chi la coglie che noi abbiamo perso di vista e invece è lì e come bello allora ragazzi c'è qualcosa di sì ci faccio qualche domanda allora interessante se ci sono delle domande interessanti allora Alessandra Bossi dice riuscendo a vivere il qui e ora si riesce anche ad uscire dal tempo è più facile dimenticare il passato in questo modo Vigoro vuoi che ti faccio tre domande così scegli quale risponde rispondi a questo ok dunque il qui e ora è proprio la dimensione del serbo dell'impiegato di banca del sottomesso al potere qui e ora cioè l'annullamento del potere del passato è la condizione della servitù questo spiega molto bene Adorno che dice se tu togli una persona nel passato gli togli amicizia e amore perché l'amicizia non è una cosa che si forma in un giorno invece si forma in anni anni e anni un amore anche una cultura anche se tu togli la gente del passato ottieni tutta una serie di automi pronti a obbedire i tuoi ordini quindi il qui e ora è la grande fregatura ma tutta la filosofia indiana o una certa psicologia ti dice di rimanere nel qui e ora è l'errore nella meditazione per esempio stai nel qui e ora è l'errore è l'errore perché nel qui e ora si va bene se vuoi in realtà io penso che il tuo ora puoi chiuderti sia nel qui e ora però c'è il passato e il futuro sicuramente un tempo così come lo si intende in tanta spiritualità occidentale il qui e ora è l'incastro la trappola per topi in cui una persona deve rassegnarsi e l'unica cosa che può fare nel qui e ora è pensare positivo e avere autostima che sono delle droghe terribili che servono ad annientare il desiderio di crescita ma se il tempo è un continuum in cui esiste il passato e il futuro io più che nel qui e ora sto nella presenza nella consapevolezza non abbiamo il termine abbiamo il termine cospevolezza è brutto cospevolezza è quello che si può dire agli altri di comprensibile di quello che provi che è molto poco nella presenza presenza vuol dire essere presenti il presente è l'orario indicato l'orologio non abbiamo il termine perché si è perso in greco c'è in greco c'è zoe e come lo traduci? non c'è traduzione zoe molto semplice zoe da qui viene zoologia però derivazione assurda i greci avevano due termini per indicare la parola vita bios e zoe scritto dopo zoe zeta oi allora bios è quello nel tempo nel mio bios io ho l'età che segna la mia carattentità nella zoe non c'è età la zoe non è il tempo lineare la zoe è un tempo laterale che va fino all'orizzonte cioè è ogni istante che si muove che si muove non in avanti ma esplode in tutte le direzioni in greco c'è un'altra parola che è usata però è persa nelle traduzioni perché nei Vangeli che è aion aion quando Gesù parla della vita della vita eterna dice zoe aionios zoe è quella lì cioè vuol dire l'esperienza immediata dell'essere vivi aionios è tradotto eterna e si immagina la vita dopo la morte comunque la parla lì che è che si continua aion vuol dire vita dopo la morte aion viene da ai che vuol dire sempre sempre cosa vuol dire non per sempre che sarebbe l'eternità quello non è sempre sempre non è per sempre per sempre vuol dire in avanti all'infinito sempre vuol dire passato presente futuro intanto lì accanto sempre vuol dire essere sempre accanto oltre quel punto in cui sei e la vita eterna di cui parla nei Vangeli se provate a leggerlo così vi cambia tutta la prospettiva non è la vita dopo la morte assolutamente no è l'esperienza immediata adesso adesso dell'A.B. l'A.B.C. e ti accorgi nella mente non sono separati il corpo non può non risentirne grazie infatti in relazione all'A.B.C. c'è un'altra domanda che dice innanzitutto dice Igor ti voglio bene allora dice come si può allenare la mente per vedere appunto il punto A B e C insieme hai un consiglio per questo? un libro ebbè tanti cioè tantissimi ho scritto dei libri sull'argomento così di punto in bianco sarebbe illusorio dare un consiglio posso solo raccontare una cosa c'è una scuola di filosofia inglese di cui parla Virginia Woolf che nei primi del Novecento si allena ad allargare la mente immagini di vedere una maiuscola però non c'entra col tempo però se è vero stesso scopo immagini di vedere una maiuscola con gli occhi della mente naturalmente maiuscola grande poi di vedere A B con gli occhi della mente e li vede la vede vedere A B C e quel lì ci arriva A B C D già comincia qualcosa a vagare bisognerebbe arrivare almeno la K beh già più difficile con l'allenamento si allarghi abbiamo un'altra domanda e ci chiede come si concilia il non tempo con l'evoluzione che avviene in ogni reincarnazione beh qui c'è da scegliere se una persona preferisce la reincarnazione o il non tempo non sono compatibili almeno come descriviamo noi cioè la reincarnazione esige una base temporale no? come la si spiega di solito banalmente in occidente esige una base temporale cioè uno muore come la spiega Platone uno muore passa un po' di tempo e poi ricomincia un'altra vita poi muore passa un po' di tempo e ricomincia un'altra vita posso parlare sì sì perché mi chiami in casa allora io quando faccio regressione tengo conto di una linea tempo dal passato al futuro ma mi è capitata una persona che tornava dal futuro per cui io tengo presente un tempo lineare perché per il mio ascendente toro mi è molto più comodo per il lavoro che devo svolgere più nella scusa più nella logica ma anche nella reincarnazione non è detto che il tempo sia lineare e non è detto che sia dal passato verso il futuro io sto aprendo in questi anni delle ipotesi di lavoro anche di piani paralleli e di un tempo circolare per esempio appunto appunto se uno pensa all'incarnazione così come la segna di solito ha questo eterno calendario questa agenda perenne questo orologio cosmico pensando che tutto il cosmo funzioni con l'orologio con il tempo unidirezionale che va solo in avanti però se tu immetti dentro l'idea del il tempo ABC a quel tempo in quel caso tutte le idee nostre sulla incarnazione devono essere completamente rilaborate perché può darsi benissimo che tu sia tu adesso in altre epoche ma adesso cioè io non è che ero un sacerdote egiziano 4.000 anni fa io sono qui e sono adesso un sacerdote egiziano 4.000 anni fa lo sono però adesso l'adesso è una parola molto interessante perché non è sinonimo di presente sono due parole diverse presente è l'ora che sta segnando l'orologio e questo è il presente adesso è un'altra roba adesso può ampliarsi tantissimo io ricordo tantissimo un momento della mia adolescenza adesso è quel momento lì io adesso io da un po' che non vado in palestra ma adesso mi iscrivo e adesso tutti i giorni faccio sto intendendo qualcosa di futuro però lo dico così i bambini lo sanno i bambini lo sanno effettivamente c'è quel modo dei bambini per indicare quando c'è un gioco di ruolo tra i bambini facciamo che cioè il ladro e il poliziotto per esempio facciamo che io ero facciamo che io ero il ladro facciamo che tu eri il poliziotto ecco viene spontaneo a tutti i bambini del mondo usare ero perché perché io dal mio non tempo facciamo costruiamo un passato finto in cui io ero e questa immediatezza di questo gioco linguistico indica che nella psiche del bambino il tempo non è come la nostra psiche assolutamente no e nella psiche degli animali nemmeno cioè chiunque abbia un gatto sa che quando arriva a casa il gatto lo aspetta davanti alla porta se a casa c'è un altro che guarda quello che è a casa si accorge che il gatto 5 o 6 minuti prima che l'altro arrivi va a mettersi in posizione per fare bella figura all'ingresso potrebbe essere non tempo perché il gatto dice dove è adesso non tempo e non spazio per cui eccolo è nel traffico a 4 km da casa quindi sarà qui tra e si piazza puntuale allora io abitavo in una via privata una trasmessa via porfora quindi una strada una strada trafficatissima col tram la mia gatta 5 minuti prima che io arrivassi con la macchina saltava sulla finestra e cominciava a miagolare quindi lei sapeva che io stavo arrivando ma io dico che sia telepatia e ma telepatia è un termine generico per indicare qualcosa una connessione o una diversa struttura temporale un entanglement diversa struttura temporale l'entanglement è qualcosa che funziona benissimo sulle particelle ma noi non siamo ma noi non siamo fatti di particelle noi siamo fatti di tessuti noi siamo organismi una particella ha una serie di scelte e una dinamica molto piccola no, va bene è telepatia cioè lei mi sentiva e cosa vuol dire che ti sentiva? che per lei che per lei lo spazio e il tempo non erano come per noi no perché se noi non possiamo usare la telepatia è perché per noi lo spazio e il tempo sono divieti alla telepatia l'abbiamo dimenticato come signora il nostro spazio e il nostro tempo sono divieti alla telepatia togliendo questi divieti ritorni certo quindi ha ragione Jeannet Iside Gesù eccetera e noi abbiamo torto la domanda che volevo fare io era questa se appunto anche l'uomo è in grado di avere gli stessi poteri del gatto se è in grado di ricordarsi che era così nella sua natura sì si tratta di togliere non di aggiungere è facile cioè aggiungere qualche elemento nuovo è difficile togliere è facile cioè è facile insomma è semplice ecco vai a vedere ancora una se c'è una o due domande belle ci sono domande però sono un po' ma beh questa qui dice come si fa come bene ma si sente lo sento da qua si sente si sente? ok dice come si fa a contattare e conoscere il nostro io più grande di noi ci sono delle tecniche? ebbè ne parlo da vent'anni ne parlo da vent'anni non c'è un'altra puntata su questo volentieri però concludiamo non hai finito di parlare della Maddalena la Maddalena nel momento in cui tutti quanti i discepoli non sanno si perdono d'animo è il Vangelo di Matteo che è molto femminista cioè molto anti-maschilista diciamo tutti i personaggi maschili di Matteo sono discadenti salvo il cieco che è l'unico che si batte per Gesù tutte le donne di Matteo sono fortissime e la Maddalena è la più forte di tutte è quella che capisce la compagna di Gesù la compagna di Gesù tutte le volte che si parla di una donna nella Bibbia non si parla di una donna si parla di una parte della psiche tutte le volte si parla di un uomo nella Bibbia non si parla di un uomo si parla di una parte della psiche si più o meno diciamo come la parte geniale dell'uomo cioè come la parte geniale della psiche la parte razionale è rappresentata da uomini La parte geniale è rappresentata dalle donne, nella Bibbia sempre, i propri termini si vedono, sono quelli in ebraico-geroglifico e la Maddalena sarebbe anche lei della serie la parte geniale della parte verbale di Gesù. Gesù parla, parla, parla e lei intuisce. E tutti i discepoli, lei è l'unica che al momento del primo giorno dopo il sepolcro, è la prima che lo vede e spiega agli altri come vederlo, cioè lei è Iside. E questo è quello che dovevi raccontarci, il contatto di Gesù attraverso quello che la Maddalena ci suggerisce. Da qui parte tutta un'altra storia che richiederà un'altra ora. Ma hai detto che ci davi uno spunto? Ho detto questo? Sì, hai detto che ci sono tanti modi. Ho mentito, perché è impossibile, è impossibile. È impossibile perché qualsiasi cosa detta lì per lì diventa ingannevole, cioè richiede la sua prospettiva. Va bene, allora raccontami se hai qualche libro nuovo. Tu mi hai detto che ne hai scritti sei. L'anno scorso. Si sono pubblicati l'anno scorso. Che ormai non ricordo più. Che non ricordo più. E il prossimo? Il prossimo non so ancora niente. I prossimi progetti? A parte le conferenze? Non parlo mai dei progetti. Non parlare dei progetti? Non si parla mai dei progetti. Va bene. Perché appena ne parli è già la ricompensa, così perdi una grande forza che è l'idea. Cioè se ne parli sono già finiti, praticamente l'ho già fatto. Invece se ancora sta crescendo non bisogna parlarne. Questo in generale è un consiglio per tutti. Cioè se vi innamorate di qualcuno non ditelo a nessuno. Altrimenti non si realizza. Va bene. Igor, io ti ringrazio molto di aver aperto questa nuova era di quel tempo e spero di averti ospite dopo Natale, a febbraio, marzo, con una nuova idea, con un nuovo argomento. Che poi i tuoi sono sempre gli stessi, che però studi, poi riporti, poi vai avanti nel tuo percorso. Sì, esatto. Tanti mondi paralleli che poi si ritrovano tra di loro. Servono a passare il tempo bene. Sì, va bene, sì. Ti ringrazio molto. Grazie. Grazie anche Anima Millenaria. Grazie. Che non nomino mai, vedi che vedi Pino e Silvia che mi nomino. Ok, grazie. Grazie.